Sarà un giorno speciale quello per Roberto Tommasini, l'ufficiale dei Vigi del Fuoco, volto popolarissimo soprattutto per i suoi trascorsi sportivi, visto che è stato prima pugile e poi apprezzato arbitro sempre dello stesso sport. Il Tommy non passava mai inosservato, quello di domani dunque sarà il suo ultimo giorno in servizio. La sua fisicità imponente ha sempre viaggiato di pari passo con la gentilezza e soprattutto con una presenza sempre discreta ma al tempo stesso utile e provvidenziale visto che il corpo dei Vigi del Fuoco è quello più amato e stimato dalla gente. Lo abbiamo sempre visto in prima fila negli interventi più delicati. Non sarà facile dire stop come spesso gli capitava quando saliva sul ring per dividere due pugili. Gli anni passano ma siamo certi che per Roberto non sarà un giorno normale e quando uscirà da quel cancello della caserma ci sarà spazio anche alla commozione.